buonasera si fa per dire perché c'è stato il diluvio rimaniamo in tema pure qua lady ghost lady stacco le nostrino salutano i miei petardi pure bocca a culo di gallina parliamo di diluvio ieri l'ho accennato nella situazione del diluvio universale e della possibile tra le mille mila ipotesi che questo ricordo sia arrivato dal cretaceo e non in epoche più moderne vari studiosi storici lo hanno collocato 2000 4000 avanti cristo 5000 avanti cristo 3000 avanti cristo ma se invece questo ricordo questa rimembranza di questo evento quindi questo enorme allagamento del pianeta si fosse verificato 66 milioni di anni fa ovviamente questo smotterebbe completamente tutte tutte proprio eh aspetta che c'è un po di cenere dentro la tastiera tanto vuoi cambiare tutte le teorie evoluzionistiche su sta brutta scimmia che siamo noi per forza di cose perché perché come dicevo ieri l'essere umano nasce secondo le ricerche storico genetiche come omo 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 abilis poi divenuto omo erectus e via dicendo almeno nel periodo finale dell'era glaciale inizio della nuova era ma come dicevo ieri parlando dei dinosauroidi chi ci assicura che prima dell'era glaciale prima dell'impatto del meteorite nel golfo del messico non fosse esistita qualche altra razza umanoide ragionante e che in qualche modo potrebbe avere sia portato il ricordo avanti nel tempo e poi mitizzato spostandosi di luogo in luogo e sia averlo in qualche modo ceduto all'altra razza ragionante che si è sviluppata dopo ovvero ste brutte scimmie qua purtroppo possiamo fare solo ipotesi ma quello che fa pensare perlomeno chi ha voglia di pensare sembra una salcicia ma lasciate il segno era un pelo stretto mi sento annodata è il fatto che in tutte le culture antiche del mondo anche quelle che teoricamente non si sarebbero dovute incontrare le une con le altre dice uno o più miti del diluvio universale tralasciando l'arca di noè e le fiabe della bibbia e quindi delle religioni monoteiste per cui ebraismo cristianesimo e islam ci sono due coccodrilli ed un orangotango due piccoli serpenti l'aquila reale il gatto e il topo l'elefante manca più di nessuno solo non si vedono i due leocorni quasi quasi la continua un giorno noè nella forestando e tutti gli animali volle intorno a sé il signore arrabbiato il diluvio manderà ma non abbiate paura io vi salverò a parte noè e la coppietta di animali con gli unicorni deve aver sbagliato che oggettivamente fa ridere anche se ci sono stati persino delle spedizioni di ricerca degli archeologi degli studiosi degli storici e persino qualche museo che ha mandato spedizioni sull'Ararat e intorno all'Ararat la Rarat e il monte per chi non lo sapesse dove tecnicamente si sarebbe arenata l'arca di Noè tralasciando le fiabe rubate e scopiazzate per l'appunto come vi ho dimostrato fino ad oggi in mille e mila dei miei video da altre mitologie più antiche anche il diluvio universale non fa eccezione quindi anche il diluvio universale è stato rubato e dimensionato e corretto per le nuove religioni monoteiste da religioni politeiste e pagane più antiche in particolare le sumere le babilonesi e tutta quella che viene definita tra molte virgolette la culla del mondo ma tralasciando che la Bibbia l'ha scopiazzato dalle antiche religioni pagane anche le antiche religioni pagane le hanno scritti raccontati e descritti da voce e narrazioni antecedenti lo strano del diluvio universale non è tanto che alcune alcune mitologie che siano politeiste che siano monoteiste che siano pagane o che siano di estrazione abramitica la raccontano tutte da tempi immemori perché se ne stanno continuando a trovare tracce di continuo in ogni sito del mondo e tutti riportano seppur poi lo contornino dei loro eroi dei loro dei e quant'altro sempre la storia di base del diluvio universale partiamo e qua me li sono scritti dalla lista iniziamo dall'Europa visto che ci siamo primis in Italia seguiamo fedelmente o meglio seguite fedelmente il librone sacro al Vaticano tanto caro ovvero la Bibbia con Noè le due mogli di Noè e le coppie di zanzare mosche e cavallette che si è portato appresso insieme a tutte le altre coppie ma questa la conoscete inutile che vi sto a raccontare di Noè poi se proprio vi interessa Noè ve ne parlerò in un video apposito tutto dedicato a lui partiamo dall'alto da tutta la penisola scandinava quindi nelle terre di Svezia Norvegia Olanda ciò che oggi viene chiamato con questi nomi nella mitologia norrena quindi stiamo parlando di divinità pagane legate all'Asgar a Ragnarok legate a Odino nella metologia norrena esistono due diluvi separati secondo l'Edda in prosa una prosa appunto scritta da Snorri Starlufson questi me li sono scritti perché se no non li avrei ricordati mai più il primo si ebbe all'alba dei tempi prima che il mondo fosse creato e già questo mi riporta un po' all'amico Meteorite che potrebbe segnare potrebbe identificare il periodo della nascita del mondo per come lo conosciamo noi ovvero con l'evoluzione genetica di noi povere bingo bongo quindi si potrebbe inserire la frase che il primo si ebbe all'alba dei tempi prima che il mondo fosse creato proprio nel periodo dell'impatto di Ciclub di cui parlavo ieri passiamo alla mitologia norrena che racconta che Ymir il primo gigante venne ucciso dal dio Odino e dai suoi fratelli vi levé quando Ymir morì perse così tanto sangue dalle sue ferite che fece affogare quasi l'intera razza di giganti con l'eccezione del gigante Bergel Miller e di sua moglie ovviamente essi scapparono su una nave e sopravvissero divenendo i progenitori di una nuova razza di giganti il corpo di Ymir venne usato per formare la terra mentre il suo sangue divenne il mare ci spostiamo un po' più in fondo a destra in un'altra stanza l'Irlanda l'Irlanda è un'isoletta alla fine seppur abbastanza capiente in Irlanda un libro particolare che viene chiamato il Leboreren racconta che i primi abitanti di Irlanda guidati da un nipote di Noè quindi si riallaccia l'Irlanda alla religione invece monoteista vennero quasi tutti spazzati via da un'inondazione 40 giorni dopo aver raggiunto l'isola si salvò soltanto una persona qua è una sola come abbia fatto a ripopolare l'Irlanda non si sa più avanti dopo che il popolo di Partolon e Nemed ebbe raggiunto l'isola quindi c'erano altri popoli in realtà al di là del mare ci fu un altro diluvio anche qui diluvio sono due che uccise tutti gli abitanti Natavota tranne una trentina che si sparsero per il mondo ovviamente i numeri sono di mera fantasia mitologica perché trenta individui si sarebbero talmente remixati da portare a delle anomalie genetiche tali da autosterminarsi un po' come stava succedendo ai regnanti d'Europa fino ai primi del 1800 dato che i primi a scrivere la storia furono dei monaci cattolici prima era tramandata solo oralmente è possibile che i riferimenti a Noè siano stati inseriti nella storia nel tentativo di cristianizzare il paese d'irlanda ma guarda un po' la chiesa che fa una cosa del genere che scopiazza e ci mette in mezzo i suoi non l'avrei mai detto ma scendiamo giù in quella mitologia che conoscete meglio se non altro per il cartone di pollon e per lo studio a scuola che non si sa per quel motivo si basa sempre unicamente su quella mitologia e basta quando ce ne sarebbero da paura Deucalione e Pirra che erano rispettivamente figli di Prometeo e Epimeteo erano due anziani coniugi senza figli scelti per salvarsi dal diluio che sarebbe caduto sulla terra e quindi per far nascere l'umanità dagli dei dell'Olimpo su ciò che avviene dopo il diluvio esistono due versioni greche ovviamente che comunque portano lo stesso epilogo due versioni ma non potrebbero essere di nuovo due diluvi anche questa domanda è lecita andiamo avanti secondo la versione di igino nel fabulae i due coniugi hanno come premio per la loro virtù diritto a un desiderio ed essi chiedono di avere con loro altre persone mica scemi zeus consiglia allora ai due superstiti di gettare pietre dietro la loro schiena e queste non appena toccano terra si mutano in persone in uomini quelle scagliate da eucalione e in donne quelle scagliate da pirra vi premetto ve ne parlerò in questi giorni che esiste proprio un rituale che ovviamente non fa apparire le persone ma le fa riapparire tornare attraverso il lancio di alcune pietre alle nostre spalle ma di questo ne parleremo in seguito in un altro video apposito invece secondo il racconto di Ovidio che è il più famoso le metamorfosi l'idea di gettare pietre deriva da una profezia dell'oracolo di temi che indicava ai due di lanciare dietro di loro le ossa della loro madre e si comprendono allora che l'oracolo si riferisce alla terra madre terra ricordiamo che entrambi sono figli di titani perché prometeo e epimeteo erano due titani ed essi agiscono di conseguenza il mito è spesso collocato nell'epiro sull'etna o in tessaglia e va bene passiamo ora scendendo lungo la costa mediterranea e continuando la strada in giù in medio oriente perché ha piscato la grecia dalla parte di sotto parliamo della mesopotamia la culla del mondo secondo la maggior parte degli storici ad oggi il racconto biblico dell'arca di noè rappresenta delle somiglianze molto elevate con l'antico mito babilonese descritto nell'epopea di gilgamesh e di questo ve ne avevo già parlato anche quando parlavo in uno dei video direttamente collegati a gilgamesh che narra di un antico re sumero di nome utanapishtim di cui vi ho già parlato che fu aiutato dal dio della giustizia e della saggezza enchi uno di quegli dei una di quell'entità elevate che ad oggi da alcuni gruppi di satanisti filosofici spirituali viene definito il vero satana ecco perso il filo oppure dal dio ea ma più probabile enchi a costruire un'imbarcazione nella quale avrebbe potuto salvarsi dal diluvio universale inviato dal fratello enlil il dio enlil ve l'ho già spiegato nel video dedicato a javè altri non è che un altro nome di javè stesso javè è il dio cristiano ebraico la più antica versione dell'epopea di atarhasis di origine sumera è stata datata all'epoca del regno del pronipote di ammurabi ammi saduka 1600 circa avanti cristo e ha continuato a essere riproposta fino al primo millennio avanti cristo quindi gli ultimi anni la leggenda di ziosudra a giudicare dalla scrittura potrebbe risalire alla fine del sedicesimo secolo avanti cristo mentre la storia di utnapishtim che ci è nota grazie ai manoscritti del primo millennio è probabilmente una variazione dell'epopea di atarhasis stessa di origine sumera quindi già la versione babilonese era una scopiazzatura della versione sumera le varie leggende mesopotamiche in generale quindi babilonia ititi sumeri accadi e altre popolazioni sul diluvio hanno conosciuto una notevole longevità sono state trasportate nel tempo tanto che le punediese sono state trasmesse fino ancora al terzo secolo secondo secolo avanti cristo per forza perché poi è arrivato l'ebraismo e dopo poco è arrivato il cristianesimo che se l'è ciucciate qui poi si parla di tutta l'epopea di gilgamesh ma ho già parlato dell'epopea di gilgamesh e di conseguenza non è il caso di tornarci sopra andiamo invece just like in egipcio in egitto ra il dio solare degli egizi mandò la dea leonessa Sekhmet e ve ne ho già parlato a punire l'umanità per il suo eccessivo inorgoglimento e non c'è riuscita per evitare che la feroce divinità completasse lo sterminio ra sommerse la terra di birra mista ocra rossa Sekhmet scambiandola per sangue se ne ubriacò e mise fine al massacro questo è quando ra si pente di aver dato a Sekhmet l'ordine di sterminare la razza umana ripeto la Bibbia perché ce l'avevo nella lista ma dell'arca di Noè a prescindere che lo sapete tutti adesso non ne parliamo nel dubbio farò poi un video apposito solo sul signor Noè c'è però un ramo dell'ebraismo che la racconta con un filino di differenza probabilmente rubacchiato dagli accadi precedentemente al diluvio universale un terzo dell'umanità un terzo dell'umanità perse la vita in un'altra alluvione in un'altra alluvione quindi di nuovo due diluvi anche per questo ramo dell'ebraismo una delle cause principali della punizione fu il peccato di molti animali di accoppiarsi tra loro anche se di specie differenti a cui si riferisce il versetto e la terra era corrotta infatti imitando i peccatori anche il cane peccava unendosi con il lupo ed il gallo con l'anatra un altro grave peccato fu la perdita sulla terra del seme maschile i peccati furono idolatria l'omicidio l'immortalità ed infine il furto i giudici erano corrotti non rispettando le leggi e nemmeno i tribunali tra gli animali rimasti vivi non vi furono animali ibridi inoltre i pesci non vennero puniti perché rimasti innocenti quindi stando agli ebrei di questa diramazione non sarebbe mai dovuto nascere il mulo non sarebbe mai dovuto nascere l'ibrido che ha due nomi differenti a seconda che sia il leone ora non ricordo i nomi ma il leone il padre la tigra la madre o il la tigra il padre e il leone la madre e altre razze animalesche mixate face to face con gli ebrei perché noi stavamo un po' più in su ci stanno invece gli islamici altra derivazione del monoteismo derivante dal signor Yahweh alias Enlil ricordatevelo il corano racconta una storia simile a quella ebraico cristiana del diluvio della genesi le maggiori differenze sono solo Noè e pochi seguaci laici che entrarono nell'arca e quindi non più da solo il figlio di Noè uno dei quattro e sua moglie rifiutarono di entrare nell'arca pensando di poter affrontare il diluvio da soli l'arca coranica si posò poi sul monte giudì e non l'ararat cristiano tradizionalmente identificato con una montagna vicino a Mosul nell'odierno Iraq il nome pare derivi dal nome locale di un popolo curdo del luogo anche se questo non è certo ben diversa è invece la storia del crollo della diga di Marib nello Yemen e la susseguente inondazione di cui parla lo stesso corano anche nel corano le inondazioni i diluvi sono due che avrebbe innescato mutamenti profondi nel tessuto antropico dell'Arabia col mescolamento delle tribù arabe settentrionali e meridionali e certo stavano a scappar tutti dall'acqua spostiamo la religione monoteista e dal mar mediterraneo andiamo a piedi verso l'Asia che sembra tanto diversa da noi ma in realtà se si scava molte cose nella storia della storia del mondo si collegano anche lì in India terra di guru e di induismo e culla anche della nascita del buddismo ma queste sono altre nozioni storiche di cui parleremo forse in altri video il racconto dell'iluvio è presente nel satampata brahammana manu un protagonista dello scritto incontra un pesce mitico nell'acqua che gli era stata portata per lavarsi esso gli promette di salvarlo se a sua volta lo salverà e qua mi ricorda molto la favola del pesciolino d'oro che anche questa però è stata in qualche modo importata da antichi racconti venuti da lontano quindi c'è un remix tra fiaba mitologia leggenda e ciò che è considerato sacro oggi che non ce ne avete un'idea manu conserva il pesce in un vaso poi lo porta al mare si costruisce un battello e nell'anno predetto dal pesce avviene il pesce nuota verso il battello di manu e aggancia il suo corno all'imbarcazione conducendola fino a una montagna del nord non ben identificata manu è l'unico essere umano sopravvissuto pratica l'ascesi e compie un sacrificio dal quale dopo un anno nasce una femmina quindi si autodivide per ascesi e da lei egli procreò questa posterità che è la posterità di manu ovvero la discendenza umana nella versione invece riportata sempre in india dal bhagavata puranya il diluvio sopraggiunge durante il sonno di brahma una delle divinità visnu anche qui la rivelazione degli eventi spetta un pesce che poi diventerà lungo un milione di miglia maz che pesce altro che grigliata per miracolo l'arca della salvezza è concessa al re e al capo dei sacerdoti il pesce mitico è in realtà un avatar di visnu e questa è la leggenda tramandata dalla mitologia induista precedente all'avvento delle religioni monoteiste c'è però poi una tribù aborigina originaria delle isole andamane che racconta una sua versione del diluvio nelle leggende delle tribù aborigine che abitarono le isole andamane le persone divennero remissive ai comandi dati loro dagli dei puluga il dio creatore cessò di far visita a loro e senza avvertimenti mandò una devastante inondazione questo era simpatico come enlil o segui solo me o ti stermino alias yahweh solo quattro persone sopravvissero due uomini l'oralola e poi l'ola e due donne calola e rimalola che avrebbero la fortuna di trovarsi su delle canoe e si perché arrivavano di lui e le canoe te salvano ma vabbè quando scesero a terra scoprirono di aver perso il fuoco e tutti gli esseri viventi erano morti puluga allora ricreò gli animali e le piante ma non diede loro ulteriori istruzioni e non restituì loro il fuoco questa è una tribù aborigena e quindi il fuoco fino ai tempi moderni non l'ha più rivisto ma arriviamo un po' più in là e andiamo a casa mia prego in casa mia nella terra che io amo tantissimo in Cina in Cina esistono molte fonti leggendarie di alluvioni nell'antica letteratura alcune appaiono come un diluvio mondiale ma molte versioni vengono riportate come inondazioni locali un certo numero di esse ha come tema l'alluvione causata proprio da dei ostili altre sono basate su eventi storici shu jing il libro della storia probabilmente scritto intorno al cinquecento avanti cristo inizia con l'imperatore yao mentre affronta il problema delle acque alluvionali che hanno raggiunto i cieli questo è il contesto per l'intervento del famoso da yu che riuscì con successo a controllare le acque e fondò poi la prima dinamica dinastia cinese shan ai jing il classico delle montagne e dei mari un altro tomo si conclude con il regnante cinese appunto da yu che spende dieci anni a controllare il diluvio le acque alluvionali avevano raggiunto il cielo anche qui ci c li di altri libri questi sono titoli di libri come pure molte leggende popolari tramandate oralmente contengono contengono riferimenti a una donna di nome nyuwa nyuwa riparò i cieli dopo la grande alluvione e calamità e ripopolò il mondo con le persone esistono molte versioni di questa leggenda da sito a sito della cina le antiche civiltà cinesi concentrate intorno al fiume giallo per questioni proprio meramente di sopravvivenza vicino all'odernaxian credevano che le alluvioni del fiume fossero causate da dei draghi rappresentanti degli dei sempre che vivevano nel fiume quando si arrabbiavano per gli errori commessi dagli umani provocavano le inondazioni ma quello che ci interessa della cina è quella grandissima alluvione o diluvio che arrivò fino al cielo sommergendo tutto indonesia spostiamoci su un'isoletta nelle tradizioni del popolo batak stanziato sull'odierna sumatra la terra appoggiava su un enorme serpente chiamato nagapadoha su un enorme serpente la terra si appoggiava su un serpente il serpente è un rettile ieri nel video di ieri parlavo del fatto che ci potrebbe essere anche l'ipotesi che i dinosauroidi si fossero evoluti in maniera umanoide proprio dai rettili ovvero dai dinosauri da cui prendono anche il nome comunque su un enorme serpente chiamato nagapadoha che un giorno stanco del pesante fardello scaricò la terra in mare il dio batara guru sostituì il serpente con una montagna per salvare per salvare la propria figlia che divenne la capostipite della razza umana la terra successivamente poi venne ricollocata sulla testa del serpente sulla testa del serpente come se viaggiare tanto ormai lo faccio tutto il video anche se sarà lungo e penoso indocina secondo la leggenda di kumburon fondatore delle stir pitai in indocina le trasgressioni degli esseri umani furono punite dal re degli spiriti celesti chiamato piateng con una devastante alluvione i sopravvissuti raggiunsero il cielo a bordo di un'imbarcazione galleggiante e ottennero il perdono di piateng tornati sulla terra si moltiplicarono generando il caos e piateng inviò il figlio kumburon a civilizzarli e poi qui c'è la storia di quando si venne così a creare una razza superiore di individui e si divisero in più etnie ma questa poi è tutta un'altra storia è il dopo di luvio che a noi qua non interessa in malesia ci sono almeno tre miti niente si muoveva qualcosa ma non so cosa ci sono almeno tre miti differenti il mito di giacun secondo gli antichi abitanti della regione del giacun la terra era solo una sottile crosta su un abisso d'acqua il dio pierman spezzò la crosta inondando e distruggendo il mondo in precedenza pierman aveva creato un uomo e una donna e li aveva messi in salvo su un'imbarcazione coperta di legno di pulai quando la nave finalmente si fermò la coppia si ritrovò su una terra smisurata il sole non era ancora stato creato e quando si fece la luce videro sette arbusti di rododendro e sette ciuffi d'erba sambau la donna concepì un maschio che nacque dal polpaccio destro e una femmina da quello sinistro dai quali sarebbe discesa tutta l'umanità vi faccio presente che la nascita dal polpaccio avviene anche per il dio bacco quando giunone scoperto il tradimento di zeus con la principessa cretese la uccide mentre lei è ancora incinta e il dio zeus per pietà del bambino che era suo se lo infila in un polpaccio facendolo poi nascere da lì nella mitologia greca stiamo parlando di malesia che dall'altra parte proprio mito di chelantan sempre malesia per celebrare una circoncisione venne organizzata una festa durante la quale si svolsero dei combattimenti tra animali mentre si effettuava l'ultimo scontro tra cani e gatti una grande inondazione arrivò dalle montagne da cui si salvarono solo alcuni servitori che erano stati mandati sulle colline a raccogliere della legna da ardere subito dopo il sole la luna e le stelle si estinsero quando la luce tornò non esisteva più la terra e tutte le dimore degli uomini erano state distrutte ultimo pezzettino della malesia un'altra leggenda ancora di un altro popolo della malesia i temuan secondo la leggenda dei temuan i peccati degli abitanti di una delle diciotto tribù orangasli della penisola malese fecero arrabbiare gli dei e anche gli antenati che li punirono con un alluvione una tempesta della punizione chiamata celau solo due persone della tribù temuan si salvarono mamac e inac sopravvisto dal diluvio scalando un albero che divenne il luogo di nascita e la casa ancestrale proprio della tribù temuan ancora più in qua ma andiamoci va australia o meglio oceania che comprende l'australia nuova zelanda polinesia in australia secondo gli aborigeni australiani durante l'era dei sogni una gigantesca rana beve tutta l'acqua del mondo dando inizio a una grande siccità vi ricordate l'impatto di cicciulub che creò terremoti e fumate grazie a una potenza pari ad almeno 10 bombe atomiche di cui abbiamo parlato ieri chi non l'ha visto lo può andare a vedere oggi quello di ieri dopo che ci avevano provato tutti gli animali australiani dopo che tutti gli animali australiani avevano provato a farla ridere alla rana ci riuscì infine un'anguilla la rana si svegliò cominciò a tremare la sua faccia si rilassò e alla fine scoppiò in una risata che risuonò come un tuono l'acqua eruppe dalla sua bocca in un'enorme inondazione che riempì tutti i fiumi e ricoprì la terra solo le montagne più alte erano visibili come isole in mezzo al mare molti uomini animali annegarono i pellicani all'epoca erano completamente neri mutarono il colore usando argilla bianca e passarono da un'isola all'altra in una grande canoa a salvare altri animali neri e bianchi che trovavano sul loro percorso da quei tempi il pellicano è bianco e nero in ricordo della grande alluvione dall'australia prendiamo la pieroga e andiamo in nuova zelanda secondo la tradizione dei ngati porou una tribù maori della costa est della nuova zelanda ruatapu si arrabbiò quando il padre wenuku elevò il fratello minore kawitia terangì a un rango più alto del suo dai nomi capite perché ho tutti gli appunti ruatapu invitò quindi kawitia terangì a un grande numero di giovani di alto rango nella sua canoa e li portò in mare dove li annegò e gli chiamò gli dèi del mare e li inviò a distruggere la terra con un'enorme inondazione mentre lottava per non annegare kawitia terangì invocò delle megattere per portarlo in salvo fu l'unico sopravvissuto del diluvio e prese il nome di paichea e come vi dicevo prima dove c'è la nuova zelanda e c'è l'australia per riempire tutta l'oceania c'è manca a polinesia diverse storie di alluvioni e di diluvi si sono tramandate nella tradizione orale dei polinesiani anche se nessuno di essi raggiunge le proporzioni del diluvio raccontato nella bibbia gli abitanti di raya e tea narrano che i due amici tea e ro stavano pescando e accidentalmente svegliarono il dio dell'oceano ruahatu con i loro ami da pesca arrabbiato il dio disse loro che avrebbe fatto scomparire tutta la loro terra sotto il mare ro e l'amico chiesero perdono e rawatu li avvertì che l'unico modo per salvarsi era quello di portare le loro famiglie sull'isolotto di toamarama questi così fecero e durante la notte l'isola scivolò sotto l'oceano e riaffierò il mattino successivo nessuno sopravvisse ad eccezione delle due famiglie che eressero sacri marae templi dedicati proprio al dio ruahutu una leggenda simile è presente anche a tahiti secondo cui l'intera isola affondò nell'oceano ad eccezione del monte pitohoti dove una coppia di esseri umani riuscì a fuggire con i propri animali e quindi a sopravvivere nelle hawai nu e l'innoe sopravvissero a un'inondazione rifugiandosi sulla cima del mauna chea nu fece sacrificio alla luna alla quale aveva erroneamente attribuito la sua salvezza cane il dio creatore discese sulla terra su un arcobaleno e spiegò a nu il suo errore e accettò il suo sacrificio nelle isole marchesi il dio della guerra tu si rattristò per i rimproveri ricevuti dalla sorella Ia le sue lacrime passarono attraverso il cielo fino al mondo di sotto e crearono un torrente di pioggia che portò via tutto dal suo cammino solo sei persone sopravvissero siamo arrivati sul pacifico ma non basta perché c'era ancora quello strano continente che in epoche antiche l'Europa non avrebbe dovuto conoscere le americhe nelle americhe esistevano però dei popoli che le abitavano seppur qua non erano assolutamente conosciuti fino all'arrivo nel 1492 Guadushu Colombo ma le loro mitologie sono rimaste eppur non avendo nessun contatto con il mondo occidentale da una parte e orientale dall'altra trovandosi nel mezzo raccontavano cose molto simili i Micmac una delle tribù del nord d'America racconta che il male e la cattiveria tra gli uomini crebbero al punto che essi cominciarono a uccidersi tra di loro e questo ricorda anche un po' la situazione di Caino e Abele questo causò un grande dispiacere al dio creatore sole che pianse lacrime che divennero pioggia sufficienti a creare un diluvio le persone tentarono di salvarsi salendo su canoe di corteccia ma solo un uomo vecchio e una donna sopravvissero e ripopolarono la terra hawai secondo la mitologia hawaiiana gli dèi fecero venire un grande diluvio e solo nu si salvò costruendo una grande nave dove tutti dove furono ospitati tutti gli animali ops kaddo che è un'altra tribù ancora nella mitologia kaddo quattro mostri crebbero in altezza i giganti e potenza fino a che non raggiunsero il cielo a quel punto un uomo udì una voce che gli ordinò di piantare una canna vuota egli così fece e la canna crebbe alta e molto in fretta l'uomo entrò nella pianta con sua moglie e una coppia di tutti gli animali buoni le acque si alzarono e coprirono tutto tranne la cima della canna e le teste dei quattro giganti passò quindi una tartaruga che uccise tutti e quattro i giganti tagliandogli le teste che sporgevano dall'acqua le acque si placarono e i venti asciugarono la terra la mitologia Hopi nella mitologia Hopi le persone disobbedirono molte volte al loro creatore Soduk Nang e gli distrusse il mondo la prima volta col fuoco poi col gelo il meteorite e lo ricreò entrambe le volte per le persone che ancora seguivano le sue leggi sopravvissero nascondendosi sottoterra quando le persone divennero corrotte e bellicose per la terza volta Soduk Nang li portò dalla donna ragno gli aracni dei ed ella tagliò canne giganti e riparò le persone nelle cavità dei gambi Soduk Nang quindi causò una grande inondazione e le persone galleggiarono sulle acque nelle loro canne le canne quindi si posarono su un piccolo pezzo di terra e le persone emersero con tanto cibo quanto ne avevano all'inizio le persone viaggiarono con le loro canoe con le loro canne guidate dalla loro saggezza interiore quindi indokoyokoyo che si dice derivò proprio da South Nang viaggiarono verso nord est passando per isole sempre più grandi fino a che non raggiunsero il quarto mondo quando raggiunsero il quarto mondo le isole si inabissarono nell'oceano il codice borgia della tribù azteca che tutti conoscete racconta la storia del mondo che fu diviso a metà l'ultima terminò l'ultima delle delle storie riguardanti la divisione del mondo a metà termino proprio con un grande diluvio per mano della dea ma a prescindere da questo il mondo diviso a metà potrebbe anche significare due razze dominanti l'inca degli inca si sa molto poco lo sapete ma una leggenda inca arrivata fino a noi racconta che viera cocia scusate distrusse i giganti con una grande inondazione molto simile alla leggenda opi da cui si salvarono soltanto due persone all'interno di caverne sigillate quindi di nuovo riemerge il sottosuolo che poi ripopolarono la terra i maia nella mitologia maia si parla di un gran diluvio di pioggia nera le polveri le polveri causate da cicciolub nel suo impatto inviato dal dio harakan per distruggere gli uomini di legno chissà chi erano altro altra tribù un po' meno conosciuta erano i mappucci nella mitologia mappucci la leggenda di Trenten Vilu e Kaikai Vilu racconta che una battaglia tra dei mitici serpenti provocò una grande inondazione e successivamente creò il mondo mappucci così come lo conoscevano loro un'ultima piccola ma non meno importante mitologia delle tribù originali del sud del nord america racconta questo la tribù muisca nella mitologia muisca il dio chibachukun causò l'inondazione dell'altopiano di bogotà il dio superiore bochica ritornò dal suo esilio volontario cavalcando un arcobaleno e asciugò la pianura aprendo la cascata del tequandama con un colpo del suo bastone sulle rocce quindi punì il dio chibachukun obbligandola a portare la terra sulle sue spalle ogni volta che si scrolla le spalle causa un terremoto ora ovviamente le mitologie vanno interpretate ma i punti in comune di tutte queste storie raccontate dai popoli antichi di posti che non si erano mai incontrati gli uni con gli altri hanno dei collegamenti estremamente stretti sia tra di loro che proprio collegandoli all'avvento dell'impatto e del post-impatto del meteorite Cicciolub che fece passare dall'era Cretacea all'era Paleogeica la terra il mondo e la genetica animale e umana che oggi conosciamo queste nozioni secondo me sono fondamentali per poter ragionare anche se non si è laureati in genetica sulle storie della storia del mondo questo video ovviamente è prettamente collegato al discorso dei dinosauroidi che ho fatto ieri sera ma se andiamo a ritroso anche dei reptili e dei serpidi di cui ho parlato in altri in altri video della playlist delle creature io ve lo raccontate ora mi interesse sapere anche cosa ne pensate il video è lungo capisco che tanti non saranno neanche arrivati alla fine ma credo che agli interessati faccia comunque piacere ascoltare e ragionare su queste tematiche ci sono altri fili conduttori ma li esaminerò più avanti anche perché è un'ora che parlo sulle otto e mezza di sera devo anche andare a darla a mangiare ai due ombres e quindi vi ricordo che qua sotto tutti i link dei vari social dove mi trovate un po' più sotto 3 o 4 degli invece 1000.000 link che tenono venduti ai miei libri ad oggi 8 perché è uscito già da un mesetto quasi testimonianze di una vita volume 2 che lo trovate dovunque anche su Amazon Libri venduto e spedito in tutto il mondo detto questo Lady Ghost Lady Sedacqua Lady Nasterino a prescindere risalutano io invece pure e tentiamo anche di caricare questa epopea di Svevamesh ciao ci sono due coccodrilli ed un rango tango